NEPT Ho detto NEPT un secondo fa Liro al pull, tenete gli add vicini al boss e iniziamo a stare fissi sul boss Poi dopo daremo la priorità agli add Liro Questo è quello di pratica Non c'è nessuno Non c'è nessuno E quindi non c'è nessuno Qu'è nessuno Va proposito E non c'è nessuno Non c'è nessuno Qui la guarda tra le In e l'ultima Questa è la cosa Oggio questo non dura per i prossimi tre piani M***a abbiamo già fatto il 50% di viva Dovremmo correre Sì ci sarà da correre parecchie Spredate un po' Ok Guarda che grippa No Ho visto qualcuno volare Ah no scusate Ho sbagliato Oh c'è morto il tank Vado io a restarla Ero col tank Ma dovrebbe morire il tank No non è in orto Ha fatto Ho voluto fare il trick ma non ha funzionato Non ha funzionato E' vero anche io Con il warrior devi traggiare sugli addini Così non ti pira E' arrivato? Eh no sono tornato su Ma forta puttana Adesso muoio io Restatelo E tenete marche Lui è morto Mark Ah ma fa Pronti a correre Via Radawan corri subito su Sì sì Usa correndo Usa i difensivi e corri in cima Correte tutti Ti fai un roar Se venisse Ma dai Adesso salta Vai su Vai su in cima Andate tutti su Adesso salta e va sopra E' andato E' andato Sono morti i tank Sono morti i tank Intanto sta accastando E' a 5% di vita Quindi non dura niente Sì sì 4% Dandracurla Sono portato anche un dart Ci siamo? No 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 ma che adesso Ci attacca Che adesso Colpa mia Morto morto Picchia picchia Morirà qualcuno Easy E' 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 Grazie a tutti.